E' iniziata all'empa di Sansevero la maratona per allattare i tre cuccioli di cane trovati in un bidone della spazzatura a Foggia. L'altro giorno in via Lorenzo Scillitani, ne presse la stazione ferroviaria, una signora, mentre stava gettando la spazzatura, ha sentito dei guaiti provenire dal cassonetto. Dopo la segnalazione della donna sul posto è giunto un veterinario dell'Asle e una squadra di vigili del fuoco che ha recuperato la busta al cui interno vi erano cinque cuccioli di cane. Per due di loro non c'è stato più nulla da fare. I tre cagnolini sopravvissuti sono stati portati all'ambulatorio Asle di Foggia dove sono stati visitati e curati per poi essere affidati al rifugio EMPA, l'ente nazionale di protezione animale di Sansevero con cui il comune di Foggia ha una collaborazione. Gli operatori dell'ente hanno iniziato la maratona per allattarli ogni due ore per i prossimi 20 giorni fin quando non saranno più autonomi per mangiare. I cuccioli, ci ha spiegato Giuseppe Ravanelli dell'EMPA, sono in condizioni discrete ma senza la mamma è complesso. Sono giorni critici in cui dovremmo dare il massimo per garantire la sopravvivenza di questi piccoli sfortunati. Sono dei veri superstiti. Li avevano chiusi con un nodo dentro un sacchetto di plastica.